Ciao a tutti ragazzi e bentornati con un nuovo video Allora, come leggete dal titolo appunto il video dei pastelli della Faber-Castell Allora, quando li avevo acquistati vi avevo fatto vedere la scatolina e praticamente vi avevo detto che all'interno c'era era una special edition comunque questa G60 pastelli dove all'interno appunto c'erano questi quattro pastelli questi quattro metal Allora, io spero vivamente, ho messo anche la luce un pochino più forte che si riesca a vedere un pochino insomma che si riesca a intuire Allora, se vedete vediamo se riesco a vederlo io direttamente Allora, dentro ci sono dei brillantini è una punta brillantinata forse, vedete, ruotandola in controluce si vedono Allora, sono questi quattro colori Allora, essendo 60 pastelli ci sono tantissime tonalità vedete, ci sono tante tonalità di rosa di azzurro, di blu, di verde di marrone e quant'altro e io vi ho fatto una specie di scaletta per farvi vedere appunto le tonalità Allora, vabbè, ho semplicemente inserito il numero che riportava il pastello e ho fatto una piccola macchiolina e niente, appunto, così vi faccio vedere tutte le tonalità vedete, tantissime tonalità di rosa tante sfumature di azzurro, di blu anche di giallo comunque ci sono diversi colori di grigio anche di marrone, di verde di verde ce ne sono veramente tantissime forse il colore con più sfumature vedete e poi qui ci sono appunto questi quattro che non so se li si notano in controluce allora, qua mi prende anche l'argento ah sì, infatti c'è anche lui allora se notate, vi faccio vedere in controluce questi quattro sembrano qua questi cinque, scusatemi sembrano lucidi vedete, a differenza appunto di questi qua che sono colori normali devo dire che come pastello a parte che secondo me essendoci questo buco di numeri tra un colore e l'altro secondo me ce ne sono anche altri appunto metallizzati così devo dire che comunque allora, come tratto di pastello adesso piego il foglio perché sennò si fanno tutte le pieghe del tavolo ok, olè allora dicevo devo dire che come pastello allora ha un'ottima prendiamo un rosso allora ha un'ottima stesura è molto morbido come pastello ed è anche molto uniforme anche molto uniforme vedete non è vabbè qua sono uscite comunque le pieghe del tavolo non mi sono sbrigata di prendere un un pezzo sotto per mettere il foglio allora ecco qua va già un pochino meglio vedete è un colore molto uniforme non lascia molti spazi bianchi tra un tratto e l'altro adesso vi provo questo viola metallizzato è anche un pastello molto morbido ho provato a utilizzare i blender ma non ci va non funzionano vedete anche questo è molto uniforme come tratto e questo è vedete tutti i glitterini molto molto bello adesso vi faccio vedere anche gli altri c'è alcuni perché se sto qua a farvi vedere 60 pastelli finisce il video domani mattina ecco questo qui invece è il turchese no è un verdino che è il numero 394 questo verdino qui sono molto molto carini vedete come risalta bene comunque i glitterini proviamo questo violetto comunque appunto una confezione da 60 era una special edition che tra l'altro ho trovato a pochissimo 20 euro 19,90 infatti ho chiesto subito alle mie amiche youtuber in particolar modo infatti mi ha dato risposta la mia caterina questo è questo violetto il 334 mi ha dato risposta alla caterina dicevo che praticamente mi ha detto che comunque sono dei ottimi cioè sono dei validi pastelli insomma ovvio non siamo a livello prismacolor carandash stabilo o quant'altro però devo dire che io vabbè non ho moltissimi pastelli o quali della giotto questo è un blu metallico un blu elettrico è il numero 343 devo dire che appunto non ho proprio tantissimi tipi marche di pastelli ho i giotto dicevo ho i o quelli di tiger ho preso un pacchettino di quelli di tiger o quelli della bic o qualche stabilo che mi era avanzato da scuola questo invece è un bel marrone è il numero 376 vedete come comunque hanno un tratto molto uniforme si maneggiano molto bene secondo me non lasciano proprio tutta questa tutti questi spazi bianchi che possono lasciare determinati pastelli cioè secondo me sono degli ottimi pastelli poi ripeto li avevo pagati 19,90 euro quindi cioè quasi una stupidata ecco adesso sto provando a fare delle piccole sfumature ma cioè sono comunque bei colori insomma poi sono belli brillanti sono sono dei bei colori ve li faccio vedere così perché secondo me faccio meglio cioè vabbè qua avevo proprio colorato proprio frettolosamente perché volevo proprio mettere una macchiolina sono proprio belli comunque secondo me e appunto sono qua appunto per farveli vedere se vi capita di acquistarli di trovarli comunque ancora questo pacchetto da 60 a 19,90 comunque acquistateli perché è un ottimo acquisto insomma e niente stavo guardando se magari c'era qualche nomignolo in particolare perché so che ci sono i giotto di diver i giotto per esempio ci sono di diverse non dico categorie però diversi modelli di pastelli giotto quindi stavo guardando se anche questi di Faber Castel ecco dicevo appunto intanto mi è arrivata una chiamata mentre parlavo ho sistemato i pastelli e niente comunque è anche carina il packaging insomma si presentano bene e sono stata molto molto soddisfatta infatti non volevo proprio farvi questo video anche perché ripeto eravate curiose per questi pastelli metallizzati e quindi appunto sono stata contenta di di avervele mostrati se vi interessa vi faccio un video praticamente uguale con gli altri pastelli che ho così ne parliamo un po' insieme ne parliamo un po' insieme vi metto appunto le macchioline il numero di pastello insomma comunque questi qua metal sono questi qua i primi cinque vedete ecco comunque appunto se vi interessa vi faccio altri video insomma degli altri pastelli che ho allora ho anche prismacolor però comunque ho pastelli che si trovano a poco prezzo perché ho tipo anche i giotto da 50 che li ho trovati a 15 euro cioè proprio una stupidata quindi ecco comunque fatemelo sapere così io vi faccio altri video simili vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao